Anche quest'anno ritorna il grande appuntamento di hashtag Puliamo il mondo, promosso a Lega Ambiente Onlus. Questa mattina, a partire dalle 10.30, gli studenti dell'Istituto Comprensivo di Puntiviera sono stati impegnati nell'operazione Caccia al Rifiuto, con particolare attenzione ai mozziconi di sigaretta abbandonati per terra, altamente inquinanti, soprattutto se vengono trascinati nei tombini. Una giornata all'aperto di amicizia, ma soprattutto di educazione civica e di rispetto per l'ambiente. Una sensibilizzazione che deve partire dalle scuole dei più piccoli, futuri cittadini di un mondo, si spera più pulito. All'iniziativa erano presenti anche gli esponenti dell'amministrazione comunale, in particolare l'assessore alle politiche ambientali Fabio Pinna, che ha ringraziato Lega Ambiente, ma soprattutto i bambini, che con il loro operato hanno dimostrato che basta poco per rendere più vivibile il proprio quartiere e quindi tutta la città.